che hanno fortemente sponsorizzato la manifestazione. I costi di gestione diretti e indiretti sono molto alti e la quota che mette il pubblico di Salone è per un evento di natura internazionale che fa emergere il nome della città in maniera positiva. E mi auguro che le aziende del territorio possano interessarsi maggiormente a questa iniziativa. Ricordo che comunque non ho una cifra da poter dire come ricaduta sul territorio salonnese, come ritorno economico, però quando l'iniziativa si dà una continuità si riescono anche a migliorare tutte le attività collaterali o di riferimento. Per esempio se il primo anno abbiamo avuto un esigono di squadre per notare a Saronno, sul secondo anno abbiamo avuto più squadre che hanno pernotato per oltre una settimana seguendo anche altri gare o allenamenti su due hotel del nostro territorio. Quindi sono parati, se mi fa un cello più su questa domanda termino qui.